Dal 29 al 31 marzo alla Pinacoteca San Domenico di Fano parte Reali Meraviglie, il progetto curato dall'Associazione Umanesimo Artificiale per Pesaro 2024, un ciclo di opere installative ed esperienze formative e immersive che mettono al centro le tecnologie esponenziali del presente e del prossimo futuro. Reali Meraviglie è un progetto di dossier che è stato fortemente voluto all'interno della scrittura del testo che fu presentato in occasione della candidatura, ma effettivamente aver trovato Umanesimo Digitale come soggetto che ha sviluppato in questo anno 2023 il progetto per noi è stato un partner perfetto da tanti punti di vista, quindi si è incastrato perfettamente, ha interpretato quelli che erano gli obiettivi, quelli che erano le traiettorie che volevamo rappresentare all'interno di Capitale Italiano della Cultura che come lo ricordo ruota su tre grandi concetti arte, natura e tecnologia. Su questa parola abbiamo lavorato e abbiamo cercato di dare il meglio grazie anche a Umanesimo Digitale. Diversi gli eventi da marzo a luglio artisti internazionali e cittadini saranno invitati a riflettere sui principali temi d'indagine attraverso la creazione di lavori per Pesaro 2024. Gli eventi si svolgeranno in varie sedi come Pesaro, Fano, Pergole e San Costanzo. 29, 30 e 31 marzo alla Pinacoteca San Domenico di Fano prevede questa performance degli artisti cyborg Neil Arbinson e Paul Lombarte. Neil Arbinson è quell'artista cyborg che da vent'anni ha un'antenna impiantata sul cervello attraverso il quale percepisce delle frequenze di colori che trasforma in dei microtoni che lui sente appunto attraverso all'interno del suo cervello. E sarà questa performance unica, molto molto particolare, per cui costruiremo questo pianoforte e quindi nelle giornate di venerdì e di sabato la cittadinanza, chi vuole, può venire ad aiutare gli artisti a costruire questo pianoforte che poi Neil utilizzerà sabato sera per suonare in questa performance, per cui ci saranno delle lampadine che si illumineranno con dei colori. E la cosa particolare è appunto che Neil Arbinson attraverso questa antenna, puntando l'antenna sulle lampadine colorate ci sarà questo dialogo tra la parte analogica del suono del pianoforte e la parte elettronica che sono fondamentalmente queste frequenze di colori che lui ascolta e che verranno attraverso il bluetooth del suo microchip verranno espanse nell'impianto audio.